Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale Ragazzi torniamo a parlare di MotoGP e torniamo a parlare della prima gara stagionale Il GP di Portimao con il nostro consueto video Ormai diventata una tradizione dopo lo scorso anno Post GP, andiamo a dare i voti ad alcuni partecipanti, ad alcuni piloti Nello specifico per andare appunto a sviscerare alcune argomentazioni Che secondo me dobbiamo ancora tornare a fare dopo la prima gara stagionale Quindi ragazzi sono un po' emozionato, la prima volta in questa stagione che facciamo i promossi e i bocciati Quindi una tradizione che continuerà anche per il resto della stagione E quindi ragazzi cominciamo subito, cominciamo subito con il migliore Pecco Bagnaia, promosso, promossissimo questo ragazzo Top del weekend, weekend veramente dove ha fatto tutto alla perfezione Infligge subito una sonora ammazzata psicologica dei suoi rivali per il titolo Un weekend anche storico perché Pecco è riuscito a vincere la prima sprint race della storia del MotoGP È riuscito subito a vincere al primo colpo sprint più gara ufficiale Quindi è passato un po' alla storia questo weekend per Pecco Bagnaia Ha fatto capire quanto Pecco sia tra i favoriti al titolo Io nei pronostici che avevo fatto nel video Ducati ufficiale Avevo parlato di Bassianini come possibile vincitore a fine anno Certo è, il campionato è molto molto lungo Ma Bagnaia sembra non avere nessun altro rivale rispetto a quelli che non guidano la sua stessa moto Perché mi spiego meglio, rispetto ad una Yamaha o ad una Aprilia Questa Ducati veramente va ancora molto molto più forte E poi Pecco ci ha cominciato a mettere anche quel pizzico di tattica Quel pizzico di gestione che lo rende praticamente in questo momento quasi imbattibile Quindi applausi a Pecco Bagnaia, sicuramente il migliore in pista Epocale la sua vittoria nella sprint Epocale la sua vittoria nella gara ufficiale Storico tutto questo primo weekend stagionale per lui E diventa da questo punto il favorito anche a Termas de Riondo E poi seconda valutazione positiva la diamo a Maverick Vignales Quinto nella sprint race Secondo nella gara della domenica Se doveva dare un segnale questo ragazzo anche agli altri piloti E a se stesso ci è ampiamente riuscito Ne vedremo sicuramente delle belle Io avevo fatto un pronostico su Maverick Vignales che confermo Perché secondo me Vignales riuscirà a vincere la sua prima gara in Aprilia Secondo me in questa stagione E ci è andato molto vicino Solo un maestoso Bagnaia è riuscito appunto a mettere la moto La sua moto davanti a quella dell'Aprilia Ufficiale di Vignales S'applausi veramente per questo ragazzo che si è riscoperto in Aprilia Poteva essere veramente un'ammazzata enorme per la sua carriera Quello che è capitato l'ultimo suo anno in Yamaha Ma poi si è ripreso veramente alla grande Brava anche l'Aprilia Che ha colto l'opportunità a Vignales E lo sta accompagnando Facendolo veramente esplodere E farlo appunto tornare ai fasti di un tempo Poi applausi Al terzo voto positivo di questo weekend Indubbiamente Il nostro Bezzecchi Che è stato veramente fantastico Dove dopo nove mesi Torna sul podio Bissando la prima volta In quella gara fantastica di Assen Ragazzi Bezzecchi Molto semplicemente è un ragazzo forte Forte E se trova un minimo di continuità Questo ragazzo dobbiamo veramente tenerlo sempre in considerazione In ogni gara Ma soprattutto oserei dire per la top 7 finale Perché questo ragazzo è un'ulteriore gemma Che ha scoperto Ducati Un applauso a Ducati Che per quanto riguarda Il suo trasformare piloti da Moto2 In piloti MotoGP E anche molto molto competitivi È veramente una maestra Bravissimo Bezzecchi Che veramente ha dato anche una spallata A Marini Ha fatto capire subito al primo weekend Che mio caro Luca Marini Stai calmo Perché io questo campionato Lo comincio subito a bomba E lo comincio subito Partendo al razzo Veramente applausi a Bezzecchi Che ha fatto una grandissima gara E attenzione perché Ducati Potrebbe ripeto Aver scoperto un nuovo diamante grezzo E poi applausi Alla sorpresa Secondo me di tutto il weekend Perché io non me lo sarei mai aspettato Così competitivo Jack Miller Ragazzi Ma un inizio così Secondo me se lo aspettavano in pochi E secondo me anche in KTM C'erano alcuni che non si aspettavano Una partenza così Moto nuova Completamente rivoluzionata Ma stessa grinta di un tempo Ragazzi Jack Miller ha fatto una gara Veramente impressionante È stato formidabile nella sprint race Una autentica sorpresa Già lì abbiamo capito Che attenzione la KTM è competitiva sul serio Non è che stanno scherzando questi qui E poi anche durante la gara È stato veramente fantastico Jack Miller Che secondo me è un punto di riferimento enorme In casa KTM E poi applausi A un altro pilota che ha fatto secondo me Un garone autentico Ragazzi applausi anche a Zarco Zarco ha fatto un ultimo giro senza senso In gara domenica ha fatto il suo ultimo giro Dove ha superato due piloti E che ha fatto secondo me Un qualcosa di impressionante Gli è valso il quarto posto in Graudatoria finale Merita da solo Il cosiddetto prezzo del biglietto Ha fatto ultime curve Veramente da Marziano Se ne avesse avuto un altro paio di giri Forse poteva andare a prendere addirittura Bezzecchi Quindi veramente Zarco Negli ultimi 4-5 giri è stato impressionante Poi ha fatto un ultimo giro Dove con dei sorpassi incredibili Che veramente non aveva senso Quindi grandissimo Zarco E poi applausi anche ad Alex Marquez Ragazzi Alex Marquez ha tirato fuori Una bellissima gara Dimostrando brillantezza Consistenza E notevoli margini di miglioramento Un quinto posto certamente incoraggianti Per la sua nuova avventura in Ducati Cresini E attenzione perché con questo Con questo weekend Con questa prestazione Secondo me Alex Marquez ha dato un bel calcio A tutti coloro che forse anche legittimamente Pensavano che Alex Marquez in Ducati Cresini Fosse secondo alcuni Un pilota che non c'entrasse niente Ecco con Ducati Un pilota scarso Tra virgolette Su una moto competitiva Perché prendere Alex Marquez E non prendere magari Qualche altro talento Alex Marquez ha fatto una gara Veramente impressionante Tanta grinta veramente Perché Ha combattuto A un certo punto Era anche un tappo di un gruppetto Quindi Non è mai Non è mai semplice Non è mai facile In queste determinate condizioni Alex Marquez ha tirato su Veramente una gara Interessantissima Per il futuro Applausi a questo ragazzo E poi Ultima valutazione positiva E qui riprendo un po' Il discorso di Jack Miller Ragazzi Binder Ha fatto una gara Mostruosa Una gara Da domenica Mostruosa Perché partiva Quattordicesimo Questo ragazzo E ha fatto sesto Alla fine Ma poteva fare anche qualcosa in più Se non fosse stato Per un zarco Mostruoso Nel finale Per un Alex Marquez Che alla fine ha tirato Veramente le unghie Per salvaguardare Il suo quinto posto Un garone veramente Incredibile Per Binder Che è passato Secondo me Anche un pochettino In sordina Un weekend Che Quando pensiamo Ai migliori piloti Di Portimao Forse Molti tralasciano Binder E Binder Ha fatto veramente Una gara incredibile Meritava sicuramente Qualcosa in più Del sesto posto finale E deve E può Secondo me Ancora affinare Gli artigli Perché la moto È molto competitiva A sorpresa Perché non ce l'aspettavamo Dopo la pre-sagione E quindi Attenzione Veramente La coppia KTM Ufficiale Ragazzi Perché quest'anno Hanno due piloti Super Super Perché Jack Miller Secondo me È un passo in avanti Rispetto a Michelo Rivera E anche lo stesso Binder Ha un altro anno in più Rispetto Allo scorso anno E attenzione ragazzi Perché quest'anno Sono in due Che possono togliersi In ogni weekend Delle soddisfazioni Impressionanti E poi Bocciati E ovviamente Dobbiamo partire Da Alessio Spargarò Perché Io sono un suo Grande fan Secondo me Alessio Spargarò È un pilota Molto sottovalutato Se l'aprile di quest'anno È così forte Questi anni È così forte Lo deve Ad Alessio Spargarò Che la faceva brillare Quando era L'ultima moto Della griglia di partenza Però Mentirei Se non dicessi Che mi ha un po' Deluso in questo weekend Mi aspettavo Un altro debutto Anche se va detto Che venerdì Aveva vissuto Un grande spavento Per via dell'incidente Del fratello È una cosa Che deve comunque Essere messa sempre Sul piatto Della bilancia Perché Dal punto di vista Psicologico Questi ragazzi Non sono Dei robot Quindi Lo spavento Che ha preso Il fratello Sicuramente L'avrà condizionato Tantissimo E poi Ragazzi Due settimane fa L'abbiamo anche Parlato sul canale Lui era finito Comunque sotto i ferri Quindi Si era operato Poteva arrivare A questo weekend Non al 100% Però chiaramente Chiaramente Il nono posto finale Non è una Posizione Da Alessio Spargarò Specialmente Se andiamo a vedere Cosa ha fatto Il compagno di squadra Quindi Se non dessimo Comunque Una leggera Bocciatura Ad Alessio Spargarò Saremmo Secondo me Non onesti Intellettualmente Bisogna comunque Riconoscere Che poteva fare Qualcosina in più Però Però ripeto A tutte le attenuanti Del caso Perché Non sono scusanti Sono dati di fatto Era finito È finito Sotto i ferri Due settimane fa E poi Grande paura Per il fratello Per quello che è successo Durante il venerdì Quindi sicuramente Bocciato Si Ma andiamoci con calma Perché È doveroso Parlare di leggera Bocciatura Però Calma Perché Ha tutte le attenuanti Del caso Comunque Lecce Spargarò Saremmo Fra i protagonisti Fra i protagonisti Di questa stagione Perché comunque Il giro veloce Lo ha fatto lui Ha concluso Nono Poteva fare qualcosa In più Però Attenzione al prossimo Weekend Perché l'Aprilia È molto Molto Competitiva Bocciatura Ragazzi Anche per Quartararo Perché ragazzi Quartararo Secondo me Sì Alla guida Di una Yamaha Ufficiale Sì Tutte le attenuanti Del caso Perché Yamaha È in grandissima Difficoltà Però ragazzi Quartararo È comunque Sempre lecito Aspettarsi da lui Qualcosina in più È un pilota Mostruoso Perché da un punto di vista Delle skill Tecniche Diciamo così Se prendiamo solo lui In esame È forse tra i piloti Se non è il pilota Più forte Della griglia Di partenza Lui e Mark Marquez Quando è al 100% Sono dei piloti Che hanno veramente Palesemente Qualcosa in più Un talento Innato Per questo ragazzo Però È chiaro Che tutti quanti noi Ci aspettavamo Qualcosina in più Da Quartararo E ripeto Sul piano della bilancia Dobbiamo comunque Mettere Che guida una Yamaha Ufficiale Che è disastrosa Perché tutti Ci aspettavamo Ben altre performance Da questa Yamaha Hanno migliorato il motore Hanno migliorato L'aerodinamica Però ragazzi Migliorano loro Ma migliorano anche gli altri Quindi è come se non fossero Migliorati In quel di Yamaha E quindi è chiaro Che è tra i bocciati Di questo weekend Anche se Piccolo esterisco finale Mi è piaciuto Il suo guizzo Nel finale di gara È stato un po' tardivo Ma ha fatto Qualche solpasso Qualche manovra Da Quartararo Quindi Mi aspettavo Quelle manovre Anche un pochettino Prima E poi Luca Marini Bocciato Clamoroso Di questo weekend Ed è veramente Un peccato Perché poteva essere Un weekend d'oro Per la VR46 Invece Bocciatissimo Luca Marini Che ne combina Una a più del diavolo Il sabato Fa un errore Clamoroso Piega troppo la moto In curva E tira giù Anche i bastianini E la domenica Ragazzi Ulteriore errore Quindi un weekend Veramente Disastroso Per il nostro Luca Che poi è stato asfaltato Da bezzecchi Quindi aumenta Diciamo Il Rammarico Da un lato Perché fa capire Quanto la VR46 Era competitiva Però aumenta Anche La bocciatura Per questo ragazzo Perché il compagno Di squadra Letteralmente Asfaltato E poi Di Gian Antonio Mi aspettavo Tanto Ma veramente Un'enormità In più Da Fabio Di Gian Antonio Vedendo soprattutto Dove ha piazzato Una moto Alex Marquez E considerando Comunque il fatto Che lui guidava Una Ducati GP22 Cioè Guidava la stessa moto Che guidava Lo scorso anno Bastianini Quindi ragazzi Dovevamo Dobbiamo Aspettarci qualcosa In più Da Di Gian Antonio Che clamorosamente Rischia di diventare Il Tito Rabat Di qualche anno fa In casa Ducati Quindi Sveglia Sveglia e vigia Perché Hai le skill Hai le potenzialità Non diventare Il Tito Rabat Di qualche anno fa Ducati Perché era Era sempre L'ultimo Classificato In casa Ducati Quindi spero Veramente Che Di Gian Antonio Riesca a dare Un colpo di reni Perché è il primo Weekend del campionato Però sembrava Veramente un pesce Fuor d'acqua Senza voti Michele Oliveira E Marc Marquez Per un motivo Molto semplice Oliveira Non è giudicabile Perché la prima Parti di gara Era veramente Di grande Grande qualità Una super partenza Ma non possiamo Giudicarlo Per due o tre giri Perché comunque Marquez L'ha buttato Subito giù Quindi è Troppo poco Michele Oliveira Anche se La partenza È veramente Di altissimo livello Marc Marquez Non lo voglio giudicare Perché Perché Per un motivo Molto semplice Marquez Ha commesso un errore Un errore Che sicuramente Lui sa Di aver fatto Un errore Molto grave Merita Il doppio Longo la penalty Ma secondo me Non merita Tutta la Gogna mediatica Che gli è piombato Addosso Dopo questo weekend Sembra veramente Che Marc Marquez Si è diventato Il mostro Di Firenze È vero Ha commesso Un errore Un errore Di valutazione Gravissimo È stato penalizzato Perché è stato penalizzato È arrivato anche L'asterisco Ne abbiamo parlato Nei short Nello short Qui sul canale È arrivato L'asterisco E conferma Che Marc Marquez Dovrà scontare Comunque la penalità Al primo weekend In cui lui sarà presente Quindi Termas De Riondo Non fa testo Da questo punto di vista Però calma Perché Marquez Comunque Comunque Aveva fatto Una sprint Mostruosa E comunque la domenica Era lì Sulla sua valutazione Non potete perdere Per perdere nessun altro Aggiornamento Sui miei video futuri Ragazzi vi saluto Ciao a tutti Da domenica versa Ciao a tutti raga Ciao a tutti Ciao a tutti